Buon pomeriggio a tutti all'ippodromo Arcoveggio di Bologna si comincia con una prova riservata i gentlemen che non hanno conseguito 40 vittorie in carriera con cavalli di 5 e 6 anni, vincitori da 9 a 25 mila euro nella carriera sono in 11 Alvie dopo il forfè di Bolero Griff con il numero 1 Cezanne Griff, 3 Bob Logan, 4 Casanova Adri, 5 Coriolano Pell, 6 Cesare Dei Veltri in seconda fila 7 Beethoven Griff, 8 Belli, 1 Debuti, 9 Briscola, Matley, 10 Coco Bella che rimane distante, 11 Bonton, 12 Barney, Lenny non vuol saperne Coco Bella e si parte con la velocità da parte di Coriolano Pell che scavalca Casanova Adri e va a condurre nei confronti di Cezanne Griff Casanova che avanza in fretta all'esterno, si porta in scia Bonton che è partita bene dalla seconda fila poi terza lo steccato Bob Logan che precede Beethoven Griff, i primi 200 metri se ne vanno in 15 al comando Coriolano Pell con nella sua scia Cezanne Griff Casanova Adri che prosegue e va accanto al battistrada frazione in 15 e 1 che porta un 30 per i primi 400 metri di corsa Coriolano Pell al comando nei confronti di Casanova Adri al suo esterno nella sua scia c'è Cezanne Griff mentre in scia a Casanova c'è Bonton gli altri un filo più distanti con Bob Logan in quinta posizione che precede Belli un Debuti che prova ad avanzare a largo portandosi in scia Cesare Dei Veltri e quando siamo a metà gara, una frazione passata in 36 continua Coriolano Pell a dettare l'andatura portandosi sempre in scia Cezanne Griff avendo sempre al di fuori Casanova Adri con poi Bonton in seconda pariglia il primo chilometro se ne va intorno all'1.16 numero 3 con sempre in vantaggio Coriolano Pell all'esterno Casanova Adri che intensifica le palate a largo mentre sbaglia Bob Logan rimane sempre secondo allo steccato Cezanne Griff in pariglia c'è Bonton si difende Coriolano, attacca Casanova Cezanne Griff ancora molto bene lungo lo steccato che cerca aria per poter andare a correre scatta in terza corsia Bonton la piegata conclusiva passata in 15.5 da Coriolano Pell esce dalla sua scia Cezanne Griff che va all'attacco Cezanne che attacca Coriolano che prova la difesa Cezanne Griff che passa e vince facile nei confronti di Coriolano Pell al terzo posto è Beethoven Griff 1.15.7 raguaglio cronometrico con un 34 a chiudere per il successo di Cezanne Griff Jacopo Brischetto per il training di Marino Lovera e i colori della scuderia Il Griffone successo del figlio di Varenne Teresita Wise da comodo secondo in corda sposta su Coriolano Pell che nel finale è stanco e deve cedere il passo il successo di Cezanne Griff e Jacopo Brischetto Grazie Grazie